L'aumento dei costi per le aziende continua ad essere un tema delicato e sul quale torna ad accendere i riflettori anche TNI Italia. Dopo l'iniziativa alla quale aderito anche Confcommercio N. Caltanissetta, che prevede l'esposizione in vetrina delle bollette di quest'anno e dell'anno passata a confronto, arriva un'altra iniziativa. Non solo esposta è petizione contro il caro bollette, afferma Michele Tornatore di TNI Italia. A breve ufficializzeremo inoltre una nuova eclatante protesta a Roma. Tutela Nazionale Imprese Italia infatti parla di un'esposta alle procure, come anticipato anche dal legale l'avvocato Barbara Gualtieri, nonché presidente del Movimento di Difesa del Cittadino di Firenze, anche all'antitraste ad Arera perché si verifichi se è stato fatto tutto quanto possibile dagli organi preposti per arginare i rincari, esclama. E poi ancora si legge nel comunicato, bollette improponibili e insostenibili che porteranno tante attività a chiudere. A parità di consumi i costi della bolletta elettrica per le attività di ristorazione sono in alcuni casi quadruplicate in un anno. A ottobre poi si dovranno fare i conti con il gas. Ma TNI Italia, si sottolinea ancora, vuole vederci chiaro e per questo sta raccogliendo le bollette di famiglie e imprese per presentare un'esposta alla magistratura. Preannuncia anche altre forme di proteste il direttore nazionale di TNI Italia. Stiamo organizzando un'iniziativa di protesta a Roma della quale a breve annuncieremo la data. Afferma e ricorda che prosegue anche la loro petizione contro il caro bollette con la quale aggiunge chiediamo al governo di accogliere le nostre proposte.